8 e 43 allora 8 e 43 14 agosto 2021 Nicola è vestita da cappello il comandante ancora non si vede è una truffa ragazzi non prenotate guiso come che si chiama andrea 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 guiso guiso andrea non prenotate assolutamente è una truffa vedete ci sono le barche degli altri non la nostra questo è come finiamo è lì questa è la notte è la sun vabbè è è è Grazie a tutti 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 Grazie a tutti